Sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza di Arezzo sono finiti i contributi a fondo perduto. Ne guai adesso 26 furbetti. Si tratta delle risorse messe a disposizione dallo Stato per contrastare gli effetti della crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria ed attenuare così i cali di fatturato. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno passato al setaccio centinaia di posizioni individuando alcuni imprenditori, sei in tutto, che hanno avuto accesso al denaro statale senza averne titolo per la presenza di condanne per gravi reati e interdittive antimafia. L'analisi delle posizioni irregolari ha riguardato poi anche lo stato giuridico delle imprese richiedenti. Ben 18 le aziende che pur essendo già poste in liquidazione prima della dichiarazione dello Stato d'emergenza hanno indebitamente richiesto il contributo. Di queste, cinque non appena avviati i controlli hanno spontaneamente restituito le somme. Infine, le fiamme gialle hanno controllato le stanze presentate da chi, non dichiarando correttamente di avere domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi, aveva ottenuto le erogazioni, prescindendo così dal requisito del calo del fatturato. Sette le posizioni risultate illegittime, tutte scoperte nel casentino. I settori maggiormente interessati sono stati quello immobiliare della ristorazione e del commercio al dettaglio. Le 26 posizioni sono state segnalate alla Procura per l'indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato o verbalizzate con sanzione amministrativa, quando il contributo incassato non supera la soglia limite di 4.000 euro prevista per la punibilità penale.